Giulia, la questione del questore, dell'incontro degli studenti col questore, questa storia della passeggiata consapevole, ma questa passeggiata consapevole non era la stessa cosa che avevate proposto in Piazza Arbarello? Assolutamente. Ora non si può morire, è ora, è ora, è ora di finire, di scuola e di lavoro, non si può morire, è ora, è ora, è ora di finire. Come vede c'era lo stesso entusiasmo la settimana scorsa, ma non è stato accettato, stavolta sì, soltanto perché abbiamo ricevuto violenza e questa è un'ingiustizia. Sempre dobbiamo avere il diritto di protestare, senza che arrivi solo quando veniamo picchiati a sangue.